giovedì primo giugno bentrovate amiche amici bianconeri qui sul canale buon inizio di mese di giugno come vi avevo promesso dopo il secondo contributo di ieri sono qui e torno da voi per parlare del successore di max sviluppiamo l'identikit prima di farlo come sempre se non siete iscritti al mio canale youtube e avete piacere di rimanere aggiornati di confrontarci quotidianamente lasciando i vostri commenti ai quali cerco di dare risposta laddove possibile comunque vi leggo sempre tutti anzi grazie del seguito che date al canale iscrivetevi al mio canale fatelo liberamente e azionate la campanella notifica e mettete il vostro like al contenuto in fondo della puntata se questa sarà stata di vostro gradimento allora il successore di max già questa per molti di voi che seguono questo canale so essere una grande notizia però andiamo per gradi andiamo andiamo con i piedi di piombo nel senso che le informazioni in mio possesso da più diciamo da più parti quindi da su svariati fronti convergono in un'unica direzione massimiliano allegri e la juventus a fine stagione si separeranno credo che la volontà parta dall'alto quindi parta da john el canna colui che lo volle insieme ad andrea agnelli alla guida di questo secondo ciclo perché si riteneva fosse la figura corretta per poter ritornare a far primeggiare la juventus così non è stato delusione a 360 gradi totale a lui vanno certamente i riconoscimenti da parte del club non da parte del sottoscritto quelli contano zero da parte del club per come ha saputo gestire nel momento della burrasca la situazione mettendoci sempre la faccia ma la juventus non è contenta di quanto diciamo sviluppato nel corso di questi due anni e quindi è propensa ad un cambio di allenatore io credo che il cambio di allenatore arriverà sedendosi attorno a un tavolo diciamo trovando la quadra insieme sappiamo che massimiliano allegri ha ancora un votato da 7 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus per altri due anni che diciamo all'ordo comprendendo il suo staff fanno circa 34 35 milioni di euro che la juventus deve ancora elargire quindi il tentativo ovviamente è quello di trovare una quadra mettersi attorno a un tavolo insieme decidere per il meglio la juventus ha identificato diciamo ha un identikit di allenatore e mi fa piacere che intanto nella giornata di oggi ho visto tanti noti giornalisti che trattano il calcio mercato confluire verso il nome che io vi ho fatto tanti diciamo diverso tempo fa e per il quale vi ho detto avere informazioni che risalgono a ben prima dell'ultimo mese è quello ovviamente di igor tudor è il nome più forte quello su cui la juventus lavora già da diversi da diversi mesi da diverso tempo ed è l'identikit credo corretto o quantomeno l'identikit che cerca la juve è quella di un allenatore emergente che non significa inesperto significa che abbia voglia di cominciare a vincere che abbia idee di gioco che abbia polso e che quindi sappia essere in uno spogliettoio importante come quello della juventus anche una sorta di sergente di ferro e molto di tutto questo confluisce nella direzione di e che conosca il campionato italiano aggiungo e molto di questo confluisce proprio nella figura di igor tudor che proprio nei giorni scorsi ha comunicato al marsiglia di non voler rinnovare quindi che lascerà marsiglia in francia hanno scritto di un anno sabbatico per lui io vi dico per quello che sono in grado di sapere per quello che ovviamente mi è stato riferito che i contatti tra la juventus e igor tudor sono molto forti e sono in stato molto avanzato significa che igor tudor sarà sicuramente l'allenatore della juventus no questo non posso dirlo con assoluta certezza ma posso dirvi che ad oggi risulta essere il candidato più forte per sedere su quella panchina perché la juventus la conosce ci ha già lavorato è stimato dalla dirigenza ha il diciamo la nomea di essere comunque un allenatore dal pugno duro quando serve il pugno duro è un allenatore che piace per le idee di gioco per la freschezza che ha saputo trasmettere alle proprie squadre udinese e verona ma lo stesso marsiglia e quindi è l'identikit più importante diciamo che racchiude cioè nell'identikit che cerca la juve è la figura più importante che che sposa questo identikit ma attenzione perché se questa notizia risale a qualche giorno fa o meglio le informazioni che convergono sul nome di igor tudor mi risalgono a qualche giorno fa e mi vengono tuttora confermate ho una novità una novità che è proprio di questa mattina da fonte assolutamente certa posso dirvi che c'è un secondo nome in ballo c'è un secondo nome in ballo che è in trattativa con la juventus che con la juventus ha già parlato che sposerebbe volentierissimo la causa bianconera e su cui la juventus sta facendo delle importanti riflessioni so che siete curiosi di sapere questo nome non è un nome diciamo così mai messo sul piatto però sfogliando la margherita dei nomi che coinvolgono questo identikit di cui ho fatto io avevo vi avevo già escluso qualche settimana fa il nome di raffaele paladino che mi risulta essere già pronto fresco di rinnovo con il mondo e il nome di spalletti ve l'ho escluso perché dopo la scena del tatuaggio mostrato in monovisione credo che sia veramente arrivato al punto di prendersi l'anno sabbatico quindi di non proseguire il proprio rapporto con il napoli ed è stato confermato dal presidente aurelio dell'orentis ma credo che quello lo abbia anche tagliato fuori dal o forse sapeva di essere tagliato fuori quindi si è potuto godere diciamo e lasciare andare al godimento di quel terzo scudetto mostrato ecco lì feci delle considerazioni che alcuni le considerarono prive di intelligenza ma sappiamo quanto anche la comunicazione sia importante in questo ambiente ecco non sarà luciano spalletti il nuovo allenatore della juventus ma sfogliando la margherita ci sono altri nomi di allenatori che hanno diciamo voglia di emergere perché deve avere anche una caratteristica importante il nuovo allenatore deve avere un ingaggio sostenibile e allora antonio conte è seduto in tribuna domenica per assistere a juventus milan che ve l'ho escluso seduta stante con un mio tweet lo confermo non sarà l'allenatore della juventus nella prossima stagione anche se a livello di figura a livello di caratteristiche sarebbe certamente colui che potrebbe ridare slancio ad una juve che è in difficoltà e che ha bisogno di risorgere ma un ingaggio elevato non si è lasciato bene la prima volta con la juventus la juventus ha bisogno di certezza e di stabilità quella che antonio conte ad oggi non può garantire per come purtroppo si è comportato negli ultimi tempi nelle strane le squadre nelle quali ha allenato e comunque ribadisco a un ingaggio fuori fuori portata non sarà nemmeno dionisi o quantomeno così mi risulta altro nome accostato alla juventus perché giovane che ha caratteristiche interessanti gioca fa giocare bene le sue squadre però forse ancora su di lui può come sul nome che vi sto per fare esserci quel dubbio di capacità di gestione di uno spogliatore importante come quello della juve il nome comunque su cui la juve sta lavorando in parallelo e in alternativa a quello di igor tudor che resta ad oggi il nome più più forte diciamo come candidato della juve è quello di vincenzo italiano italiano è un pallino di accardi che sarà molto probabilmente il nuovo direttore sportivo del napoli il quale napoli ha pensato a luise enrique ma sembra che la la pista luise enrique non sia così facilmente percorribile il nome su cui punta accardi è proprio quello di vincenzo italiano che lo vorrebbe appunto accardi lo vorrebbe portare a napoli ma italiano nicchia anche perché da qualche tempo ha avviato i contatti con la juventus sta parlando con la juve è una trattativa che mi risulta essere diciamo in buono stato non dico in stato particolarmente avanzato ma in buono stato c'è la disponibilità ovviamente dell'allenatore c'è la volontà della juventus di valutare seriamente la pista italiano e allora credo che la corsa fatto salvo che non ci siano ulteriori sorprese perché due bar tre giorni fa quando scandagliando un po i possibili candidati sulla panchina della juve chiesi mi fu detto tudor come già detto precedentemente ma occhio che potrebbero arrivare anche delle sorprese tra queste sorprese ci potrebbe essere appunto quella di italiano il cui nome è al vaglio si tratta di capire se italiano al di là di essere un allenatore sostenibile a livello di costi di avere idee di gioco interessanti di far giocare bene le proprie squadre sia un allenatore che possa avere quel pugno di ferro nel momento in cui uno spogliatoio importante come quello della juventus possa vivere i momenti di difficoltà ecco credo che la partita si giochi lì tra igor tudor in vantaggio e vincente italiano che nelle ultime ore credo abbia veramente risalito la china e stia insidiando il nome di igor tudor corsa 2 lo vedremo intanto i nomi più plausibili per la panchina della juve restano igor tudor in vantaggio e quello di vincenzo italiano nome nuovo su cui ho conferme assolute ditemi la vostra ci sentiamo presto fino alla fine forza juve